Presidente Letta, con questa interrogazione le chiediamo questo. Nella notte tra il 29 e il 30 maggio, 50 agenti della Digos hanno fatto irruzione in una abitazione privata a Roma. Hanno arrestato e prelevato due donne, di cui una, una bambina di soli sei anni. Queste due donne sono rispettivamente la moglie e la figlia di un dissidente kazako, oppositori al regime dittatoriale del Kazakistan. Per una presunta, poi non confermata da due sentenze del Tribunale di Roma e del Tribunale del Riesame di Roma, vizi nel passaporto. La donna, le due donne, sono state trattenute in uncie e nell'arco di soli tre giorni sono state rimpatriate nel loro Paese in spregio e in violazione dei diritti umani e delle norme presenti nel nostro Paese. Il Governo ha dimostrato grande conflittualità nella gestione e grande incapacità nella gestione di questa vicenda. Noi con questa interrogazione le chiediamo due cose. Primo, di fare chiarezza nella gestione che il Governo è nel conflitto che vi è stato tra i Ministri nella gestione di questa indecente vicenda. Secondo, gli chiediamo se quanti e quali sono i casi di immigrati clandestini presenti nel nostro Paese rimpatriati e espulsi nell'arco di tre giorni. Il Consiglio ha facoltà di rispondere. Grazie. Al collega Molteni e al collega Giorgetti che hanno presentato questa interrogazione voglio rispondere così. I fatti a cui si riferisce l'interrogazione avvenuti, come è stato detto dal collega Molteni, tra i giorni 29 e 31 maggio scorsi, tra Casal Palocco e il CIE di Ponte Galeria, sono stati oggetto nelle ultime settimane di varie ricostruzioni giornalistiche, nonché di primi accertamenti amministrativi e giurisdizionali. Il contrasto tra le une e gli altri fa emergere evidenti punti di contrasto, rendendo ineludibili ulteriori approfondimenti. In particolare, sembra trasparire un evidente stacco tra la correttezza formale dei vari passaggi in cui si è articolato questa intricata vicenda e crescenti interrogativi sostanziali che ruotano attorno ai tempi e ai modi attraverso i quali si sono sviluppati gli avvenimenti. Gli interrogativi da sciogliere quindi ci sono. E appare del tutto legittimi che essi vengano posti e soprattutto naturalmente che trovino le risposte dovute, in primo luogo nelle sedi istituzionali, tanto più in un Paese come il nostro, massimamente attento al funzionamento pieno di tutte le prorogative dello Stato di diritto, un Paese che vuole garantire al tempo stesso diritti e sicurezza. Il coinvolgimento nella vicenda di una minore, inoltre, rende il tutto ancora più delicato. Per questi motivi ho disposto un'accurata e articolata indagine interna alla quale stanno lavorando in modo pronto e collaborativo i Ministeri e tutte le istituzioni dello Stato coinvolti. I risultati di questa indagine interna saranno resi noti al più presto al Parlamento e alla pubblica opinione, perché, voglio dirlo molto chiaramente, non saranno tollerati ombre e dubbi. Prego, Deputato Molteni, a facoltà di replica. Presidente Letta, la sua risposta non ci soddisfa completamente. È evidente l'imbarazzo suo e del suo Governo alla luce di come è stata gestita questa vicenda. Le ricordo che due donne sono state espulse, sono state rimpatriate, vi sono state e sono emerse delle chiare posizioni di conflittualità tra membri del suo Governo. Bene il fatto che lei voglia fare luce e voglia fare chiarezza su questa vicenda. Rimane il fatto che, con riferimento invece alla seconda domanda che noi gli abbiamo posto, lei non ha assolutamente risposto. Inconfutabile è il fatto che queste due donne siano state individuate, arrestate, allontanate, espulse e rimpatriate dal nostro Paese, tra l'altro mettendo a rischio la vita di queste due donne, di cui una bambina minore, nell'arco di soli tre giorni. Nel nostro Paese ci sono tanti immigrati, clandestini, socialmente pericolosi, che sono raggiunti dei decreti di espulsione rispetto ai quali i decreti di espulsione stessi non vengono applicati, rimangono e permangono per giorni, settimane, mesi, forse anche anni nel nostro Paese. Quindi noi invitiamo lei e il suo Governo a dare applicazione alla normativa riguardante l'immigrazione clandestina, sia con riferimento al reato di immigrazione clandestina, sia con riferimento alla legge Bossi-Fini, sempre e in ogni momento. A maggior ragione noi le ricordiamo questa vostra necessità, soprattutto laddove membri del suo Governo hanno più volte ribadito la volontà e la necessità di abrogare il reato di immigrazione clandestina e abrogare la legge Bossi-Fini. Non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Prenda atto, prenda atto, alla luce di questa vicenda, noi non riusciamo a estradare Battisti, non riusciamo a riportare a casa due Marò, cacciamo fuori dal nostro Paese tre povere donne. Prenda atto di questa situazione e si attivi immediatamente per dare una risposta democratica e civile al nostro Paese. Grazie.